Laura Caserni, campionessa nazionale di FonSport, è in carica. Gelosissima del suo tessuto, se lo porta via, non è gelosa. Ci vuole anche un momento di pulizia nel quale noi uomini facciamo dei sogni erosici. Gelosissima del suo tessuto, anche le donne dicono, anche le donne. E tanto ci hanno già raggiunto solo sul mondo, se volete che fotografare e salutarvi, Koki e Almeria da Virgin Radio. E tre grandi in azione per aver terminato questo grande spettacolo. Abbiamo avuto un piccolo ritardo perché c'è questa postazione che è diventata... Siamo pronti, sfumiamo, grazie. Laura Caselli, campionessa nazionale di FonSport, è in carica. L'applausione ci vuole, vai! Chiamano la carica! Questa è la due, dice. C'è un'alternativa. Allora ho messo due uguali. Mi ha messo due uguali. Mi piace una e due la stessa? No, 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 una quarta. Muoviamo la quarta, no? Ma la bella finita! Quella di stamattina. Bello, è bello questo momento. Siamo un momento d'accordo? C'è lui da quel rubino lì? Da quel rubino? E' qua, qua! Guarda, facciamo un applauso. Il sound check l'hai fatto? Ragazzi, facciamo un applauso a Manuene, da l'aiponico. Sta facendo un lavoro fantastico. L'ha metto ad accordo tutti. Musicisti, DJ, io, per favore. Bravo, Manuene, bravo, bravo. Facciamo a dire la fase? È la prima volta che ho tenato la mia figlia. Laura Caselli, campionessa nazionale di FonSport, è in carica. Applauso! E' questa anche ballata, eh? E' questa mai siamo noi. BAM 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 BAM! BAM 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 BAM! I've been lost in the eyes of afternoon The mattress is just my head to you She's a ghost And the truth, it's impossible What a love for life You'll make sure I don't find somebody new It's the way you move It's the way you move I know I'll stay with you after just one touch The way you move You'll just kill me It's the time